E finalmente vi parlo di lui, Viltrox 7512, sigla! Viltrox 7512, sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente vi porto la recensione di questo fantastico obiettivo. E lo spoiler, chiaramente, è che è veramente una bomba atomica. Ma seguite tutto il video perché ve ne parlerò abbastanza a fondo. Anche se non vi farò vedere come tutte le recensioni sulle lenti, che al bordo è leggermente meno nidido rispetto al centro e cose simili, tra l'altro su questa cosa io ho messo una modella completamente a destra del frame, ho messo il fuoco sull'occhio e sinceramente la nitidezza mi sembra buona anche lì. Sarà infatti questa una recensione reale sul campo. Quindi ho fatto sei shooting solo con questa lente, un po' con APS-C, un po' col full frame ed ora finalmente ve ne posso parlare. Partiamo subito con il dire che durante le vacanze estive mi ha contattato Viltrox per inviarmi questa lente. E vi dico la verità, siccome sono abituato ad avere lenti Prime Sigma Art, avevo sicuramente un pregiudizio su lenti di questo tipo e di questo prezzo. Ma ci arriviamo. Quando ho aperto la scatola, infatti, mi sono trovato davanti a un obiettivo tutto costruito in metallo, veramente costruito benissimo, e vi dà proprio un senso di Prime e un senso di solidità in mano. Le uniche cose di plastica che abbiamo qui sono chiaramente i due tappi ed il paraluce. Addirittura, dove c'è l'attacco della baionetta, abbiamo un O-ring, quindi sì, è anche tropicalizzato. E come vedete, qui abbiamo anche un ingresso Type-C per poter aggiornare il firmware di questo obiettivo. Quindi, sinceramente, come costruzione, siamo davanti veramente a un obiettivo Prime. Questo chiaramente è per Sony, io utilizzo Sony, quindi abbiamo da questo lato un tasto personalizzabile. Ci potete mettere tutto quello che volete. Io ho messo il cambio del fuoco. Poi abbiamo uno switch per il fuoco manuale o il fuoco automatico e dall'altra parte abbiamo un altro switch per poter rendere la ghiera dei diaframmi cliccabile o meno. Quindi o è fluida, come in questo caso, infatti non sentirete niente, o andando a switchare... Sentite? Abbiamo il classico click. dei diaframmi. Ultima cosa da sapere sulla ghiera dei diaframmi è che non c'è un tasto fatto apposta per poterla bloccare. Quindi occhio a toccare questa lente perché è veramente un secondo da far girare la ghiera e se non ve ne accorgete avrete delle foto completamente diverse da quelle che state immaginando, specialmente se state utilizzando il flash e specialmente se state utilizzando l'HSS. Voi non ve ne rendete conto dalla visualizzazione, ma magari vi trovate a F16 da F1.2. Questa cosa mi è successo due volte proprio perché sono abituato ad avere lenti con il blocco di questa ghiera. Questo non ce l'ha, ma per il prezzo, questo per me non è un problema. Non c'è altro da dire, almeno esternamente, su questo obiettivo. Quindi l'ho montato su APS-C, l'ho montato su full frame, ho già fatto dei video dedicati a questo, li trovate qui sopra nelle schede, andatevi a recuperare perché sono molto interessanti, e ho incominciato a fare i miei shooting. Come vi dicevo, ho fatto ben sei shooting diversi con sei modelli diverse utilizzando solo questa lente. Non è sempre stato possibile portarvi il video, ma in tutti e sei questi shooting, lui si è comportato veramente da Dio. Tutti i confronti che andrò a fare, infatti, sono con lenti Prime Sigma Art, e nello specifico andrò a confrontarlo con l'85-1.4 Sigma Art. Sinceramente mi fa ridere questa cosa, perché se ve lo vado a confrontare e vedrete che è veramente molto molto simile a quell'obiettivo lì, questo sì è per APS-C, però costa solo 599 euro, mentre il mio 85-1.4 Sigma Art costa 1300 euro, quindi costa praticamente tre volte questo. E se ve lo metto a paragone è proprio perché, ragazzi, siamo lì. La qualità è veramente eccezionale di questo obiettivo. Per quanto riguarda il video, il fuoco continuo funziona da Dio. Una volta che aggancia l'occhio della modella, in questo caso, non lo lascia più. Quindi non ho mai avuto problemi di fuoco in video su questo obiettivo qui. Come non ho avuto problemi di fuoco, neanche chiaramente in foto. Ha infatti un fuoco veramente molto molto veloce. Non ci sono rumori di nessun tipo, i motori della messa a fuoco funzionano da Dio, e non vi devo segnalare niente che non va su questo argomento. Anzi, fuoco veramente top. Per quanto riguarda i colori, io mi sono trovato benissimo. Sapete che le foto le lavoro tanto in post-produzione, quindi non mi soffermerò a dirvi, i colori sono un po' più caldi, un po' più freddi, rispetto a qualche altra lente. Quello che vi posso dire è che i colori sono molto naturali, e a me piacciono molto. Ma arriviamo finalmente alla cosa fondamentale, che è quello che vorrete sapere voi, ovvero come si comporta con lo sfocato. Allora, lo sfocato è veramente incredibile. Stiamo parlando di un 75 mm, che su APS-C o su full frame diventa, se non sbaglio, un 112-115, una cosa del genere, quindi una lente veramente molto lunga, e 1.2. Chiaramente lo sfocato è veramente pazzesco. La progressione dello sfocato è veramente super top, e vi dico la verità, mi piace di più lo sfocato che crea lui, rispetto allo sfocato che creano le mie lenti. Sarà l'1.2, sarà che è più nuova, sarà che è più lunga la lente, ma mi piace veramente tantissimo. E a riprova di questo, vi dico la verità, se questa fosse stata full frame, probabilmente avrebbe preso il posto del mio 85mm 1.4 Sigma Art. Vi faccio scorrere qualche foto, che ho realizzato con questo obiettivo, e ve le metto anche al 100%. Chiaramente il consiglio è quello di andare, sulle impostazioni di YouTube, e mettere il video in 4K, in modo tale che avete la massima qualità possibile, per vedere i dettagli. Chiaramente i dettagli che vedrete qui da questo video, saranno compressi, rispetto a quello che vedo io sul monitor, ma vi assicuro, che questo obiettivo qui, ha una nitidezza veramente pazzesca. Se lo vado a mettere a confronto con il mio 85, e se vado ad aprire le foto al 100% su Lightroom, forse lì un pelino, e dico un pelino di nitidezza in più, lo abbiamo sull'85. Se non andiamo ad aprirla al 100%, e magari l'apriamo anche al 70%, non ci sono assolutamente differenze. Vi assicuro che con questa lente qui, potete fare i vostri ritratti a 1.2, senza nessun tipo di problema, e avrete una nitidezza sul soggetto, quindi sulla pelle, sull'occhio, che è quello che interessa a noi, veramente ad altissimi livelli. Penso che, se andate a comprare una lente del genere, perché la volete utilizzare a 1.2, questo l'ho detto anche nei video precedenti, e a 1.2 si può usare, assolutamente. L'unica cosa di cui vi devo parlare, è la vignettatura, che a 1.2 è, ahimè, abbastanza presente. Ora, a me Alessandro piace la vignettatura, di solito non la metto nelle foto, o comunque lo vado ad utilizzare solo nelle foto indoor, non è vera questa cosa, qualche volta la utilizzo anche outdoor, però in generale la vado ad utilizzare, specialmente in indoor, e questo obiettivo a 1.2, fa una bella vignettatura. Lightroom di suo, ha il profilo di questo obiettivo, quindi si, riesce ad eliminare la vignettatura, ma non la elimina completamente. Ecco, qui la differenza con il mio 85, è abbastanza netta, il mio 85, una volta che va su Lightroom, e vado a togliere la vignettatura, grazie al profilo su Lightroom, si toglie completamente. Qui invece un pelino rimane, però vi dico la verità, non mi disturba, anzi non mi disturba affatto questa cosa, e per quello che costa, io penso che sia uno scotto, che si può pagare proprio tranquillamente, anche perché molti di noi, poi aggiungono la vignettatura, quindi sono convinto, che non sia assolutamente un problema. Ovviamente, se chiudiamo il diaframma, a F2 barra 2.8, la vignettatura sparisce, quindi nessun problema, neanche sotto quel lato lì, però, se compriamo questa, secondo me, la utilizziamo tutta aperta. Per quanto riguarda le aberrazioni cromatiche, ecco, qui non ho avuto problemi, ho fatto delle prove, anche qui, è un filino più sotto, rispetto al mio 85, ma, non avrete nessun tipo di problema, l'iTrum in automatico, le toglie praticamente tutte, quelle pochissime che ci sono, mentre se andate a farlo manualmente, le toglie completamente, quindi, non mi preoccuperei neanche di questo. Sto facendo questo tipo di recensione, pensando a un pubblico, che può andare a comprare questo obiettivo, e se volete spendere 600 euro, per un obiettivo, sono quasi convinto, che non siate dei professionisti, che lavorate proprio con la fotografia. Quindi, secondo me, per il prezzo di questa lente, sì, ci sono un po' di imperfezioni, ma possiamo tranquillamente, chiuderci un occhio, perché, nel risultato finale, poi, non si vedrà, praticamente, nulla, di quello che vi sto parlando. Non so più come dirvelo, questa lente, è veramente, pazzesca. Per 600 euro, vi portate a casa, una lente, per fare dei ritratti, che, vi darà un risultato, veramente, sorprendente. Qui sotto in descrizione, vi lascio il link ad Amazon, così potete andarlo a vedere, e potete andarlo ad acquistare. Ma, a chi consiglio questa lente? Sicuramente, a tutti quelli che hanno APS-C Sony, e, vogliono fare dei ritratti, veramente, mozzafiato. Questa, è la lente, giusta, per voi. Se avete full frame, non so se consigliarvela, perché il fattore di crop, è abbastanza importante, e quindi, il file, chiaramente, sarà molto più piccolo, rispetto a quello, che potrebbe uscire fuori, dalla vostra full frame. Infatti, non vi nascondo, che non andrò, ad utilizzare questa lente, ritornerò al mio 85, perché, appunto, utilizzo full frame. Non peraltro, se questa lente, fosse stata per full frame, o, se io, utilizzassi maggiormente APS-C, questa sarebbe, la mia nuova lente. Altro ragionamento, che voglio fare con voi, è, ci sono tante persone, che comprano macchine fotografiche, super mega top, e poi comprano degli obiettivi, non di qualità. Quindi, il classico esempio è, compro la 7.4, la 7.R5, macchine, insomma, super mega top, e poi vado a spendere, due, trecento euro di obiettivo, per un cinquantino Sony, che, non ha assolutamente, una qualità adeguata. Ecco, questa è la cosa più sbagliata da fare, spendete, mi raccomando, i soldi nelle lenti, e non spendete, nelle macchine fotografiche, ormai ve lo dico, da un bel po', però, se vi trovate, proprio in quella situazione lì, e allora a quel punto, forse sì, cioè, io non lo farei questa cosa, ve lo dico già, io andrei a prendere, una lente full frame, fatta bene, però, se vi trovate in quella situazione, non avete un budget, per comprarvi una lente, come si deve, con questa, se poi, le foto vanno solo sui social, vi troverete, comunque da Dio, sarà stato inutile, comprare una full frame, sì, però vi ripeto, siccome conosco tante persone, che fanno questa cosa qui, a questo punto, vi dico, se vi trovate, appunto, in quella situazione, la potete comunque, prendere in considerazione, perché tanto, o comprate una lente, da più di 1000 euro, o questa con 600 euro, ve la cavate, e comunque, il risultato, è quello che state vedendo, in questo momento, le foto sono iper nitide, lo sfogato, è super ok, i colori, sono ok, e la messa a fuoco, non ne parliamo, veramente top, quindi, non sarà la mia lente principale, ma sono stato veramente, molto contento, di essere stato contattato, da Viltrox, perché effettivamente, almeno questa lente, è super top, e a questo punto, mi viene voglia, di provare delle lenti, loro full frame, quindi, sperando che questa collaborazione, vada avanti, probabilmente, vi porterò, altri obiettivi, di Viltrox, e per questa cosa, aiutatemi, mi raccomando, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, e se avete delle domande, fatemene, qui sotto nei commenti, va bene, detto questo, io ho finito, rimango a vostra disposizione, nei commenti, e ci vediamo, al prossimo video, ciao!